Salvaguardia dell'ambiente a 360 gradi è l'obiettivo della giunta municipale di Gela. L'anno che appena cominciato dovrà dare i suoi frutti e in quest'ambito si inseriscono alcune novità. Lo dice l'assessore comunale Simone Siciliano. Anno nuovo, regole vecchie per la differenziata. Continuiamo a differenziare i rifiuti con maggiori ingentivi per i cittadini. Nei prossimi giorni verrà avviata presso il centro comune di raccolta la pesatrice dei rifiuti che permetterà ai cittadini di ottenere dei bonus tanto più alti quanto più è la capacità di differenziare i rifiuti e di portarli presso il centro comune di raccolta. L'assessore Siciliano entra nel merito di come funzionerà il servizio. Fondamentalmente verranno pesate le frazioni differenziate, quindi plastica e metalli, vetro, carta e cartone e per il peso verranno associati dei punteggi che poi permetteranno di ottenere dei buoni spesa da scomputare in un certo senso relativamente alla quota e all'atari che viene pagata. Un servizio rivolto ai privati che guarda alle attività commerciali. Ovviamente sì, con un maggior riguardo rispetto ai cittadini che è la parte su cui si deve sensibilizzare maggiormente.